Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, andiamoci dentro col video. Michael Rees, uno dei protagonisti di questo caso, è un uomo semplice che sa godersi la vita. È cresciuto a Morris, in Alabama, e ama il ritmo lento di questa cittadina. Il suo hobby preferito è la pesca, che praticava spesso con suo padre. I genitori gli hanno regalato la prima canna da pesca a tre anni e fin da bambino si diverte tantissimo a pescare. Michael cresce e col tempo questa passione diventa per lui proprio il modo perfetto per passare del tempo con suo padre, che adora. Purtroppo la mamma di Michael sta lottando per guarire da un tumore, sta facendo le chimioterapie ed è molto debilitata. Però è una donna forte e quando suo figlio la va a trovare ogni weekend, prova a mettere da parte i suoi malesseri. L'uomo, che ha raggiunto i 40 anni, lavora come tecnico informatico nell'ospedale di St. Vincent's e ha una battuta e un sorriso per tutti coloro che passano nel suo ufficio. È molto apprezzato dai suoi colleghi perché è una persona gentile e disponibile e cerca di aiutare tutti come può. Michael, inoltre, adora i computer ed è molto sicuro delle sue capacità lavorative. Quella sicurezza però, ahimè, non si applica anche nella sua vita amorosa. La sua prima moglie lo ha lasciato per un altro uomo. Michael non se lo aspettava minimamente, aveva sofferto molto e per un periodo ha preferito non avere relazioni. Nonostante questo, dopo qualche tempo, l'uomo si dimostra ancora fiducioso, crede nell'amore nonostante la delusione che ha avuto. E spera di trovare presto una nuova compagna. Michael a questo punto non sopporta proprio di stare da solo, vuole trovare una moglie e creare una famiglia. Nel 2008, un amico presenta a Michael una donna di nome Cindy. Cindy lavora per la contea di Jefferson in Alabama e si occupa di contabilità. Come Michael, Cindy è molto amata dai colleghi e come lui è già stata sposata, ma mentre il matrimonio di Michael è finito con un divorzio, Cindy è vedova. Il primo marito di Cindy si è tolto la vita e la donna è rimasta devastata. Si è sentita sola, persa e una parte di lei pensava che non avrebbe mai ritrovato un altro uomo a cui donare il suo cuore. Ma la gentilezza di Michael la conquista. Lui e Cindy legano grazie ai valori che condividono. I due si innamorano perdutamente l'uno dell'altra e dopo pochissimo tempo si fidanzano ufficialmente. La famiglia di Michael è entusiasta della relazione nonostante i problemi di salute di sua madre. Sono felici di festeggiare la novella coppia e che il figlio abbia trovato qualcuno da amare e su cui poter fare affidamento. La famiglia di Michael, infatti, adora Cindy. La donna è attiva nella chiesa, come Michael, e la comunità di Morris è particolarmente religiosa. Sia Cindy che Michael frequentano la chiesa. Cindy è battista, mentre Michael è metodista. Michael però comincia a frequentare la chiesa di Cindy all'inizio della loro storia. Da quel momento entrambi vanno in chiesa regolarmente ogni domenica e ogni mercoledì. Quando decidono di sposarsi sanno già il luogo dove vogliono che sia celebrata la funzione. La chiesa battista di Sardis. Nel maggio del 2009 la coppia con volanozze si trasferiscono in una bella casetta bianca di proprietà della nonna di Michael e danno il via a una routine rassicurante. È un matrimonio davvero felice. Gli unici momenti che passano separati sono durante i weekend di pesca di Michael e quando Cindy frequenta la chiesa. Cindy è responsabile della musica in chiesa. Lavora a stretto contatto col pastore per scegliere i brani con cui accompagnare il suo sermone e guida il coro la domenica mattina. Essendo sempre più coinvolta, Cindy vuole che Michael si converta da metodista a battista e diventi un membro della sua chiesa. Nel 2010 lui abbraccia la sua fede e a battezzare Michael è Jeff Brown, il pastore della chiesa. Ben presto Michael e Cindy diventano molto amici del pastore Brown e di sua moglie. Organizzano serate di giochi, grigliate e anche studi sulla Bibbia ogni giovedì sera. Nonostante sia concentrato ad essere un buon marito, Michael non dimentica mai sua madre e i suoi problemi di salute. Nella giornata del 14 febbraio 2015, San Valentino, l'uomo va a trovare sua madre. I due rimangono a lungo insieme e chiacchierano parecchio. Quattro giorni dopo, la sera del 18 febbraio, Michael e Cindy passano a casa della madre per aiutarla con alcune faccende. Poi vanno in chiesa per assistere alla funzione del mercoledì sera. Dopodiché si fermano nel loro fast food preferito, ossia Milo's, per acquistare la cena. Quando Michael e Cindy rincasano, la donna si rende conto che mancano il succo d'arancia e il prosciutto. Quindi esce per andare ad acquistare i prodotti in un negozio lì vicino e chiede a Michael di far entrare in casa il cane che si trova in giardino. Cindy torna a casa circa mezz'ora dopo e quando arriva sente il cane che abbaia in giardino, ma soprattutto non trova suo marito. Il tavolino in sala da pranzo è rovesciato, c'è caos in casa, sembra quindi che qualcuno si sia introdotto nell'abitazione. Cindy inizia ad andare nel panico, chiama Michael in casa, ma lui non risponde, teme che l'intruso possa essere ancora nell'abitazione, afferra il telefono e decide di uscire per chiamare il 911. Al telefono dice di essere appena tornata a casa, di aver trovato dei mobili rovesciati, ma soprattutto non trova suo marito. La donna è confusa e non sa cosa fare. Subito dopo la chiamata al 911, Cindy chiama suo suocero dicendogli con voce preoccupata che crede che qualcuno sia entrato in casa e soprattutto non trova Michael. Il padre di Michael si preoccupa. In che senso suo figlio è sparito? Sale velocemente in auto per raggiungere casa sua e di Cindy sente che c'è qualcosa che non va. Dopo pochi minuti, sul posto, arriva anche la polizia. L'agente dello sceriffo della contea si fa strada nell'abitazione, non ha idea di cosa aspettarsi. Nota il tavolino rovesciato e il caos che regna in casa. Entra in tutte le stanze finché non arriva in cucina. È lì che trova Michael, davanti alla porta sul retro, in ginocchio, immobile. Sembra che abbia una ferita di arma da fuoco alla nuca. È indubbiamente senza vita. Dopo una prima rapida ispezione, la polizia mette in sicurezza la casa e comincia a cercare ogni traccia che l'assassino può aver lasciato. Gli agenti controllano gli ingressi della casa, non c'è nessun segno di effrazione, così come non sono presenti armi sulla scena del delitto. Nel frattempo viene chiamata la scientifica per eseguire i rilievi delle impronte. Cindy viene portata alla stazione di polizia in attesa che gli investigatori le diano la notizia della morte del marito. Mentre finiscono di controllare la casa arriva Earl, il padre di Michael. Nota che ci sono i sigilli e parecchie auto della polizia. Gli agenti dicono a Earl che Cindy sta bene, ma non possono dirgli altro. Earl quindi inizia a fare qualche domanda. Chiede se per caso Michael sia in casa. La gente annuisce. Earl quindi si fa coraggio e chiede se per caso sia morto. La gente, di nuovo, annuisce senza dire una parola. A quel punto l'uomo non capisce più niente, si chiede come sia morto suo figlio, ma soprattutto perché. Dopo aver finito la prima ispezione della casa, un detective va alla centrale dove Cindy attende notizie di Michael. A questo punto le dicono cosa è successo, suo marito Michael è stato ucciso. Pur essendo sensibile alla perdita che Cindy ha subito, in quanto ultima persona ad aver visto Michael vivo, la gente deve interrogarla subito. Così il detective chiede a Cindy cosa hanno fatto quella sera. La donna spiega che prima sono andati da sua madre e poi si sono recati in chiesa. Lo fanno ogni mercoledì. A detta sua non è successo nulla di insolito. La donna descrive la normale routine che aveva con Michael e quindi il detective si chiede se qualcuno li stesse tenendo d'occhio e sapesse che quella era una serata buona per rubare. I furti in realtà sono molto comuni nelle piccole città, ma raramente avvengono quando c'è qualcuno in casa. La gente chiede a Cindy se è successo qualcosa di strano o di insolito, così la donna spiega che, quando sono rientrati a casa, si è resa conto che mancava del cibo per la giornata successiva e, quando è uscita per recarsi al negozio, ha sentito un rumore che lei descrive come simile ad uno scoppio. Forse Michael ha aperto la porta al suo assassino perché era qualcuno che conosceva? In comunità così piccole, in effetti, è probabile che il colpevole sia qualcuno che si conosce. Il detective chiede a Cindy chi pensa possa essere stato, se Michael avesse problemi con qualcuno. Cindy però risponde sicura che Michael non ha problemi né nemici, quindi non ha idea di chi sia stato. Mentre la polizia verifica che Cindy fosse al supermercato, come ha affermato, il detective chiede una lista di amici e conoscenti con cui parlare. Se non si tratta di un'irruzione casuale da qualche parte tra i conoscenti di Michael, si nasconde il suo assassino. Dopo l'interrogatorio di Cindy, attenzione, il pastore va a prenderla. La polizia deve indagare più a fondo prima di sapere se si tratta di una rapina finita male o di qualcosa di più personale. Gli investigatori, per prima cosa, controllano l'alibi di Cindy e lo verificano tramite le telecamere del supermercato, che la riprendono mentre fa la spesa. È quindi possibile stabilire l'orario e confermare quanto affermato dalla donna. Quanto agli inquirenti, parlano con la famiglia e gli amici di Michael. Tutti dicono la stessa cosa. Lo adoravano. Era una brava persona, un uomo gentile, amorevole e disponibile. Quando gli investigatori interrogano il pastore Brown, si aspettano gli stessi elogi. Dopotutto era il padre spirituale di Michael. È un buon amico della coppia. Ma, con loro sorpresa, il pastore descrive un'immagine diversa del defunto. L'uomo sostiene che Michael non era come sembrava, non era un marito devoto, ma picchiava Cindy e abusava di lei psicologicamente e fisicamente. Il pastore si dimostra preoccupato, sostiene di aver cercato di aiutare Cindy, che era indecisa e confusa. La donna non crede nel divorzio, non sapeva cosa fare, e così l'uomo ha cercato di darle qualche consiglio. Se Michael era un uomo violento, forse aveva altri segreti. Magari c'erano delle persone che lo volevano morto. Prima di andarsene, il pastore offre un'altra pista. Sostiene di aver visto nel quartiere un uomo con una felpa. Si aggirava intorno alla casa di Michael e Cindy in modo strano. Questa persona può essere collegata al rumore sentito da Cindy e all'omicidio? Gli investigatori devono seguire questa pista per scoprire di più. Gli agenti bussano alla porta di tutti i vicini di casa, chiedono se per caso hanno sentito uno sparo la notte del 18 febbraio, ma a quanto pare nessuno aveva sentito nulla. Chiedono se per caso è stata vista qualche persona sospetta a girarsi nei dintorni al momento dell'omicidio, ma nessuno sembra aver notato nulla di insolito. Però, grazie alle prove raccolte, sperano di giungere ad una svolta. Sulla scena sono state trovate delle impronte che possono essere confrontate con quelle del database. Ma non serve. Risultano infatti essere tutte di Michael, Cindy e altri familiari. Gli inquirenti non identificano nessuno che non avrebbe dovuto essere in casa. Pare che l'assassino o gli assassini abbiano coperto le loro tracce. Mentre gli investigatori cercano nuove piste, la famiglia di Michael organizza il funerale. Ma Cindy è distrutta. Disperata. Non vuole neanche partecipare alla cerimonia perché non è sicura di riuscire anche solo a posare lo sguardo sulla barra del marito. Mentre la famiglia è in lutto, i detective cercano di confermare quello che ha detto il pastore sugli abusi di Cindy per mano del marito. Chiedono alla famiglia, agli amici, parlano con persone che conoscevano la coppia. Ebbene, non c'è nessuno che conferma le violenze. La polizia però sa bene che le vittime di abusi tacciano per paura o vergogna, quindi cercano di verificare se Michael ha precedenti per violenza. E ciò che trovano non è quello che si aspettano. Trovano una denuncia che può avere un tragico legame con il caso. L'hanno fatta due uomini che lavorano per una ditta di traslochi in una zona vicina. Viene trovato un verbale della polizia di Birmingham. Qualcuno aveva cercato di assumere queste due persone per commettere un omicidio. Gli uomini non avevano rivelato il nome della vittima ma la descrizione corrisponde perfettamente a Michael e conoscono anche la ragione per cui doveva morire. La vittima lavorava all'ospedale di St. Vincent's e aveva trascorsi di violenza. Gli investigatori a questo punto si chiedono se Cindy volesse risolvere la situazione e quanto fosse realmente decisa a farlo. Questo è chiaramente un omicidio su commissione denunciato proprio qualche settimana prima della morte di Michael. I sospetti ora inevitabilmente cadono sulla moglie. Cindy se ha subito violenze può aver preso misure estreme per porre fine a tutto? C'era stata un'indagine sugli eventuali abusi ma non c'era nessun verbale nessuna ordinanza restrittiva e soprattutto non erano stati segnalati incidenti. Per scoprire se Cindy aveva pianificato l'omicidio di Michael gli investigatori rintracciano Dionto Doss e Raymond Miller gli uomini che hanno denunciato di essere stati contattati per commettere l'assassinio. Gli inquirenti chiedono agli uomini il nome della vittima designata e come erano stati contattati. I due spiegano che non avevano nomi ma solo informazioni come dove lavorava e che macchina aveva per poterlo riconoscere. Gli uomini però sono turbati chiedono ai detective perché stanno facendo quelle domande visto che loro non avevano preso così sul serio quella richiesta. Erano convinti fosse stato uno scherzo un po' strano e di cattivo gusto ma nulla di più. Solo in un secondo momento ci avevano pensato e avevano deciso quantomeno di dirlo alla polizia. I poliziotti a questo punto ipotizzano che Cindy nel tentativo di allontanarsi da Michael abbia tentato di assoldare gli uomini. Così i detective mostrano agli uomini la foto di Cindy. I due però rimangono straniti e rispondono che chi voleva ingaggiarli non era una donna bensì un uomo un certo pastore Brown. Jeff Brown i due uomini spiegano che il pastore ha detto loro che la vittima disegnata picchiava la moglie e che per l'aiuto gli avrebbe pagati ma loro hanno rifiutato. Entrambi infatti si erano risentiti anche parecchio del fatto che visto che sono persone nere Jeff li avesse avvicinati pensando che avrebbero ucciso per lui senza problemi. Quando i due uomini hanno riferito della proposta ricevuta con quei pochi dettagli la polizia di Birmingham non sapeva bene come procedere. Certo avevano fatto qualche approfondimento ma non avendo in mano nulla di concreto avevano chiuso le indagini. Ora gli investigatori hanno qualcosa in mano con la morte di Michael e i testimoni che identificano il pastore Brown come chi ha cercato di ingaggiarli possono scavare nel suo passato. Jeff Brown è cresciuto nella zona di Birmingham era nei Marines e non ha mai avuto un percorso lavorativo stabile insomma cambiava spesso lavoro ha fatto il parrucchiere poi ha iniziato a lavorare per una ditta di traslochi infine è diventato catechista in una chiesa battista poi è tornato a Birmingham ha incontrato una donna e si sono sposati questo lo ha portato alla chiesa battista di Sardis non era una chiesa ricca non offriva uno stipendio con cui poter vivere quindi doveva cercare lavori supplementari per mantenere la famiglia Jeff era carismatico era visto come un leader nella comunità di fedeli sentiva che era suo dovere non solo predicare ma anche consigliare i membri della comunità nella vita privata e lo faceva ma non tutti erano d'accordo Tiffany la sorella di Michael sostiene che quando ha incontrato il pastore Brown non ha avuto una buona impressione però niente spiega perché Jeff Brown volesse Michael morto tranne che per proteggere Cindy la polizia sa che il pastore Brown e sua moglie erano amici di Michael e Cindy quindi scavano più a fondo per scoprire la verità e in effetti emerge che nell'ultimo periodo Jeff e Cindy parlavano molto e insomma era insolito sembrava in effetti che i due fossero diventati molto intimi spesso restavano da soli il pastore Brown andava a trovare Cindy durante la pausa pranzo mangiavano insieme da qualche parte o si portavano al pranzo e mangiavano in macchina il pastore ha già spiegato ai detective che Cindy gli aveva confidato delle cose su Michael che nessun altro sapeva lui la stava consigliando o c'era di più uno degli investigatori decide che a questo punto è il caso di interrogare nuovamente Jeff Brown durante l'interrogatorio il pastore Brown spiega che tra lui e Cindy c'era un'ottima amicizia e nient'altro ma quando i detective chiedono all'uomo di tutte le volte che ha pranzato con Cindy ammette che non si trattava solamente di consigli Jeff era sposato aveva dei figli ma c'era tensione nel matrimonio questa tensione era aumentata nel corso del tempo il pastore rivela che non voleva farlo sapere essendo un pastore è suo dovere essere d'esempio quindi era meglio che non si sapesse che il suo matrimonio andava così male Jeff spiega che lui e sua moglie stanno divorziando e Cindy che lavora per la Contea dà loro una mano con i documenti insomma lo sta aiutando è possibile che il suo rapporto con Cindy fosse solo di questo tipo ma questo non spiega l'omicidio su commissione perché Jeff ha cercato di assoldare quegli uomini l'uomo nega afferma che in realtà tutto ciò è davvero ridicolo certo era arrabbiato con Michael anzi a dirla tutta era turbato perché un uomo che considerava amico picchiava la moglie ma nient'altro Jeff ribadisce che era amico sia di Michael che di Cindy finché quest'ultima non si è confidata l'uomo racconta ai detective che quando Cindy ha confessato al pastore che Michael l'aveva picchiata si era molto preoccupato perché temeva che potesse continuare a farle del male il detective a questo punto lo punzecchia e gli dice quindi voleva assumere qualcuno per ucciderlo eh Jeff risponde che non è così è tutto un equivoco ha parlato con quegli uomini una volta di problemi emersi nella congregazione e in quell'occasione ha spiegato che la cosa peggiore è scoprire che qualcuno picchia la moglie allora uno di loro ha chiesto vuole che lo sistemi per lei? il pastore sostiene di aver risposto senza pensarci troppo ridendo e come ti pagherei dandoti la mia macchina? Jeff è attonito non riesce a credere che l'abbiano preso sul serio il detective invece lo prende molto sul serio e incalza Jeff per avere altri dettagli dov'era la sera dell'omicidio? il pastore Brown afferma che era molto lontano dalla casa dei Michael e Cindy si trovava un'ionta che dista circa 45 minuti li ha addirittura chiamati quella sera lasciando un messaggio sulla segreteria telefonica avvisandoli che era lontano e che dunque quella sera non sarebbe passato ma quindi Cindy e Michael la sera dell'omicidio sono davvero andati in chiesa? se il pastore non c'era risulta strano i detective a questo punto decidono di controllare l'alibi del pastore Brown senza prove sufficienti per arrestare il pastore però lo rilasciano ma chiedono e ottengono un mandato per avere i tabulati telefonici per analizzare la sua auto Jeffrey Brown il pastore della chiesa a questo punto diventa un sospettato a questo punto una domanda sorge spontanea come si inserisce Cindy in tutta questa vicenda ci si domanda ancora se la donna in preda alla disperazione abbia preso l'iniziativa mentre gli investigatori valutano tutte le possibilità la scientifica fa una scoperta agghiacciante la scientifica infatti controlla l'auto del pastore con il luminol si tratta di un composto chimico utilizzato dalla polizia scientifica per determinare e rilevare tracce di sangue anche lavato o rimosso a contatto con il sangue questo composto diventa luminescente in realtà non vengono individuate tracce di sangue sulla tappezzeria della macchina ma ci sono gocce e tracce di sangue su una bibbia di pelle nera purtroppo anche se è stato rilevato questo sangue la scientifica non è in grado di estrarne del DNA però infilato nel portaoggetti i poliziotti ritrovano delle carte che realmente cambieranno tutto si tratta dei documenti di assicurazione del veicolo in cui sono segnati i nomi di Cindy e del pastore Jeff Brown quindi Cindy quattro mesi prima dell'omicidio del marito ha comprato una macchina al pastore Brown circostanza che il pastore non ha riferito alla polizia quando ha confessato che Michael picchiava la moglie a questo punto i sospetti su Cindy aumentano dall'esterno sembra una vedova inconsolabile ma a questo punto i detective non sono più sicuri che si tratta di una semplice testimone la polizia perquisendo la casa non ha trovato né impronte né indizi che effettivamente provassero che l'assassino venisse da fuori per questo motivo vengono richiesti i tabulati telefonici di Cindy e un mandato di perquisizione per il suo ufficio sulla scrivania dell'ufficio di Cindy vengono trovate diverse cose tra le quali una foto del matrimonio con lei e Michael ma anche altro c'è un'altra fotografia una che ritrae Cindy e il pastore Jeff Brown insieme vicini in un atteggiamento che pare molto intimo quest'ultima foto risulta familiare ad uno degli agenti che ricorda un incidente avvenuto l'estate precedente in un parcheggio poco distante gli agenti della sicurezza della Contè avevano ricevuto una denuncia che segnalava due persone che molto probabilmente stavano avendo dei rapporti intimi in una macchina la denuncia diceva che la coppia era in un'auto della disinfestazione in un parcheggio fuori dal tribunale c'è da dire che sul documento non si fanno nomi ma nel dubbio gli investigatori chiamano la ditta di disinfestazione e fanno centro per loro lavora proprio il pastore Jeff Brown in quell'auto in quel giorno d'estate c'erano il pastore Jeff Brown e Cindy Cindy si è presentata fino ad ora come una vedova in lutto ma i detective cominciano a domandarsi se non siano stati proprio il pastore e la vedova a cospirare per uccidere Michael a questo punto molti ipotizzano che Cindy avesse due lati quello pubblico della lavoratrice della figlia amorevole della brava ragazza e un altro quello della donna che doveva ottenere ciò che voleva e forse l'oggetto del suo desiderio era proprio il pastore Jeff Brown a questo punto molti ipotizzano che Cindy avesse due lati quello pubblico della lavoratrice della figlia amorevole della brava ragazza della brava moglie e un altro quello della donna che doveva ottenere ciò che voleva e forse l'oggetto del suo desiderio era proprio il pastore Jeff Brown. Ma senza un'arma del delitto e dei testimoni la polizia ha bisogno di più prove per dimostrare che il pastore e la sua devota siano amanti assassini. Iniziano confrontando i tabulati telefonici. Il dipartimento dello sceriffo riesce a individuare diverse chiamate tra Jeff e Cindy che i due non hanno segnalato nelle rispettive dichiarazioni. In effetti la sera dell'omicidio Cindy e Jeff sono stati in contatto costantemente. Alle 18.57 Cindy ha ricevuto un messaggio da Jeff. Due parole, tienimi informato. Alle 19.03 la donna ha chiamato Jeff. Ovviamente i detective non sanno cosa si siano detti ma la chiamata è durata ben 29 minuti. Questo significa che Cindy è rimasta in linea mentre era in macchina con Michael. I poliziotti pensano che Jeff stesse ascoltando la conversazione per sapere dove si trovassero i coniugi e quando sarebbero rientrati. Intorno alle 19.30 Michael e Cindy arrivano a casa e la telefonata termina. La polizia non sa con precisione quando Michael è stato ucciso ma il delitto deve essere avvenuto tra le 19.30 e le 20.13 ora in cui Cindy ha chiamato il 911. I tabulate dimostrano che Cindy ha richiamato Jeff alle 19.38 e lui è al telefono mentre lei sta tornando dal supermercato. E soprattutto è ancora in linea quando la donna chiama il 911 dal telefono di casa. I tabulate telefonici però non mostrano mica solo l'orario delle chiamate mostrano anche la posizione del pastore durante queste chiamate. E il pastore non era dove aveva detto di essere quella sera. Non era fuori città. Il suo telefono per l'esattezza si aggancia ad un ripetitore vicino a casa di Cindy e Michael la sera dell'omicidio. La polizia ovviamente deve verificare tutti i collegamenti per capire se in effetti portano ad un omicidio. Jeff era ossessionato da Cindy e voleva sbarazzarsi di Michael. O era lei l'amante ossessionata che ha ucciso Michael per stare con Jeff? L'11 marzo del 2015 Cindy torna al lavoro. È passato circa un mese dall'omicidio di Michael ma la polizia ritiene di avere prove a sufficienza per arrestarla. Nel frattempo Cindy ha ripreso la vecchia routine compresi gli incontri con Jeff Brown. I detective sanno benissimo che sono soliti pranzare insieme ogni giorno quindi sanno dove trovarli per poterli arrestare tutti e due insieme. Le autorità si appostano e quando scorgono Cindy e Jeff arrivare si preparano all'azione. Tuttavia Jeff nota il detective che lo aveva interrogato quindi al posto di parcheggiare la macchina per far scendere Cindy sul marciapiede decide di proseguire. I due si dirigono verso nord ma un sergente riesce prontamente a bloccare la macchina del pastore e la coppia viene arrestata. Cindy l'apparente pia vedova e la sua guida spirituale il pastore Jeff Brown sono entrambi accusati di omicidio. Nessuno dei due ammette la colpa e c'è una domanda che non ha risposta. Chi ha materialmente compiuto il delitto premendo il grilletto? Gli inquirenti ignorano chi sia stato l'esecutore ma sanno che entrambi si sono adoperati per uccidere Michael. Per la famiglia di Michael la notizia dell'arresto di Cindy è davvero un duro colpo. Come se non bastasse Cindy non solo esce su cauzione ma torna al lavoro in attesa del processo come se nulla fosse. Il pastore invece non può pagare subito la cauzione e resta in carcere. Nessuno dei due confessa. Arriviamo al 5 aprile del 2015 quando il padre del pastore Jeff Brown va a trovarlo in prigione. E quello che il figlio gli racconta cambia il punto di vista degli inquirenti. Jeff ha iniziato a comunicare quel padre scrivendo degli appunti per lui. Di norma tutta la corrispondenza ricapitata all'interno della prigione viene accuratamente controllata. Quindi gli inquirenti possono entrarne in possesso. L'informazione più importante scritta in stampatello è una frase. È stata lei. Vedendo un'opportunità da quella appunto gli inquirenti offrono un accordo al pastore Brown. Ma solo se inizia a parlare. L'accordo prevede una pena di 20 anni per omicidio colposo. Il pastore Jeffrey Brown accetta di testimoniare contro Cindy e di rilasciare una dichiarazione veritiera di quanto davvero accaduto. L'uomo rivela i dettagli dell'omicidio. Anche se si dichiara un pastore devoto ammette che i suoi incontri con Cindy per i consigli spirituali erano una scusa bella e buona. Cindy e il pastore Jeff Brown in realtà avevano una storia e la donna fin da subito aveva parlato di uccidere Michael. Infatti i due si incontravano quotidianamente per pranzo e la maggior parte delle volte, se non tutte, l'argomento dell'omicidio di Michael entrava nella conversazione. La donna era ossessionata dal porre fine a quella relazione. Cindy dice chiaramente al pastore che non poteva semplicemente divorziare. Doveva ucciderlo. Ma perché non poteva divorziare? Ebbene Cindy ha sempre detto al pastore che la sua famiglia non avrebbe mai approvato il divorzio. Se avesse divorziato la sua famiglia l'avrebbe ripudiata. In più la donna era preoccupata dell'opinione della comunità. E qui mi sorge un'altra domanda. Ma l'omicidio non è peggio del divorzio? Stando al racconto di Jeff, Cindy lo ha spinta ad assoldare un killer. Ma quando la cosa non ha funzionato, ha deciso di prendere in mano la situazione. Così, il 18 febbraio, dopo essere rientrata a casa col marito, lo ha seguito mentre lui andava alla porta sul retro per far entrare il cane. Il pastore, Jeff, dichiara di non sapere cosa Cindy avesse in mente di fare, ma quando è successo, era ancora al telefono con lei. L'uomo sostiene di aver udito Cindy dire la frase «sono stufa di questo idiota» e qualche istante dopo ha sentito lo sparo. Michael non si era reso conto di nulla in pratica. Cindy ha poi ripreso in mano il telefono dicendo a Jeff, il pastore, che dovevano vedersi immediatamente. E in effetti i due si sono incontrati in una stazione di servizio dove Cindy ha consegnato a Jeff una revolver calibro 38, dicendogli di sbarazzarsene, cosa che lui ha fatto immediatamente. Nel frattempo Cindy ha fatto la spesa tranquillamente, è tornata a casa, ha rovesciato il tavolino e qualche immobile per simulare la scena di una rapina e ha chiamato la polizia. Stendo al suo avvocato, il pastore Jeff ritiene che Michael non sia l'unica vittima di Cindy. La donna ha infatti confidato al pastore, a Jeff, di aver ucciso il primo marito e che era davvero frustrante per lei dover uccidere per ottenere quel che voleva. Secondo la documentazione ufficiale però, il primo marito di Cindy si è tolto la vita e, chiariamo, gli inquirenti in effetti hanno revisionato il caso di suicidio del primo marito e hanno controllato tutto ciò che era a disposizione, ma ahimè non hanno trovato nulla di incompatibile con un suicidio ed è difficile simulare un atto del genere. Nonostante ciò ci sono tuttora persone convinte che Cindy abbia ucciso sia il suo primo marito che Michael. E forse, la butto lì, sarebbe toccato anche al pastore se avesse trovato dopo di lui un uomo che le piaceva di più. Nel novembre del 2016 la famiglia di Michael subisce un'altra perdita. Purtroppo la mamma viene a mancare, non riuscendo quindi ad assistere al processo per la morte del figlio. Durante il processo Cindy in effetti ammette la relazione con il pastore Jeff, ma dichiara che era finita mesi prima della morte di Michael. Nega di aver detto che Michael la picchiava e insiste sul fatto che il pastore fosse ossessionato da lei. Dice che per riconquistarla si è nascosto in casa e ha ucciso Michael mentre lei era al supermercato. Ma gli inquirenti sanno dai tabulati telefonici che c'erano state ore di chiamate, telefonate e comunicazioni e hanno accesso ai messaggi che lei e Jeff si sono scambiati. La giuria dunque impiega solo 90 minuti per accusare Cindy di omicidio. L'11 gennaio del 2017 viene condannata a 40 anni di prigione. Detto questo io ho finito di parlare di questo caso, fatemi sapere se lo conoscevate. A me stupisce sempre molto quando gli uomini di chiesa arrivano a tradire la moglie, a insomma andare dietro una persona che vuole commettere un omicidio. Non lo so, queste situazioni mi stupiscono sempre particolarmente, quindi fatemi sapere cosa ne pensate, come al solito ci becchiamo qui sotto nei commenti. Io vi mando un bacione, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Basta che non facciate nulla di criminale.